Sono 22 le persone arrestate, tra cui l'esecutore materiale per l'attentato avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro di Istanbul in Turchia, che ha provocato 6 morti e il ferimento di 81 persone. Il Ministero degli Interni di Ankara sarebbe giunto a conclusioni che dietro all'attentato ci sarebbe la mano del partito dei lavoratori del Kurdistan. L'esplosione è avvenuta in una delle strade più frequentate di Istanbul, ricca di negozi, bar e ristoranti. L'intenzione era di fare il maggior numero di vittime.